Si intitola Dentro le cose verso il mistero, un bellissimo libro di Monsignor Massimo Camisasca che ci porta nell'esperienza di un rapporto rinnovato con la realtà attraverso la riscoperta per così dire di uno sguardo che abbiamo forse perduto nell'abitudine della quotidianità. Come scrive l'autore la sua proposta è quella di un cammino verso le cose per catturare almeno un frammento del mistero che nascondono ma anche che rivelano a chi ha la pazienza di guardarle e di interrogarle. Queste pagine sono una sorta di viaggio attraverso varie categorie come la natura, la parola, il volto, il silenzio. Scrive per esempio Camisasca osservando la natura che ogni albero è un numero primo, qualcosa di unico, di assoluto. Si sofferma poi sulla parola per sottolineare l'importanza che le parole hanno nella vita dell'uomo e sottolinea l'importanza del portare i giovani a vedere una montagna, il mare, un cavallo, un quadro, ad ascoltare una poesia, una canzone, un testo, aiutare a leggere e a vedere. Sottolineando il rapporto che vi è tra la parola e una reale conoscenza della realtà. Si sofferma successivamente sul volto e afferma la profondità dei volti mi rivela che la realtà più interessante sulla terra sono gli uomini. Parla poi del silenzio e con mirabili parole sottolinea che occorre cominciare a inserire piccoli tasselli di silenzio nella nostra giornata. E ancora io non voglio il silenzio per non sentire o non vedere, lo desidero per poter vedere più in profondità. E così via, come in una strada attraverso vari aspetti, varie dimensioni, varie categorie della realtà, si tratta di una interessantissima proposta per rinnovare lo sguardo sulla realtà, sulle cose, persino su se stessi.